Lei aderisce a questa iniziativa di Camera di Commercio e chiaramente l'operazione si chiama Publishing in Piemonte e come si avvicina lei con la sua casa editrice a questa iniziativa? Intanto grazie perché per noi editori piemontesi, in particolare anche per il Leone Verde, è una grossa opportunità. Io amo ricordare una frase che secondo me è molto calzante, che in francese dice le Petite Riviere von Grand Le Fleuve, cioè i Ruscelli fanno grandi fiumi. E finalmente anche noi in Piemonte abbiamo un'iniziativa molto concreta che ci dà la possibilità di aiutarci nell'internazionalizzazione dei nostri titoli. L'editoria per i piccoli editori indipendenti, quale sono io, non è facile riuscire a arrivare ai mercati internazionali. Io già lo faccio da molti anni, partecipo da molti anni a tutte le fiene internazionali, ma adesso grazie anche a Publishing in Piemonte avrò ancora più possibilità di farlo. Cioè là dove non potevo arrivare con i miei pochi mezzi, grazie alla disponibilità di Publishing in Piemonte, potrà essere un grande vantaggio. E non solo per la mia casa editrice, ma per tutti quelli che aderiscono al progetto. È una grossa opportunità. Quindi questa iniziativa di Camera di Commercio è di sicuro un grosso volano importante per portare le piccole case editrici, i piccoli editori a un grande pubblico. Questo è lo scopo? Soprattutto anche a poter tradurre i nostri titoli all'estero, visto che il mercato è in grande espansione. E direi anche che la cosa più importante è proprio quella di salire a bordo di questa nave, perché solo se siamo in tanti poi potremmo avere successo. Bene, quindi il suo intervento sta per iniziare. Io la lascio libera e buona fortuna Anita Molino. Grazie, grazie. Buona fortuna a tutti noi. Grazie.